Lorenzo Scaraggi, per te la prima volta a Mond, ma non la prima a Monte Sant'Angelo, sia come camminatore che come esperienza del racconto dei cammini? Certo, assolutamente. Sono bitontino, Monte Sant'Angelo fa parte della cultura della viandanza bitontina. Pensa che a Bitonto c'era la cosiddetta compagnia di San Michele, che ogni anno metteva insieme un po' di persone e partiva, si partiva tutti quanti a piedi per il monte. E tant'è che questo è rimasto anche nei detti popolari bitontini. E si dice, te lo dico in italiano, che si canta quando si scende dal monte, nel senso che puoi cantare vittoria su qualcosa solo dopo che hai affrontato la fatica, sia arrivato qui e finalmente stai scendendo dal monte per tornare verso casa. Quindi Monte Sant'Angelo fa parte di una cultura di base, probabilmente che ha avuto presa su di me sin da piccolo perché sono sempre stato un viaggiatore. Diccelo anche in bitontino perché lo vogliamo sentire. Perfetto, stasera vedremo qui a Mond il tuo documentario Madre Nostra. Raccontaci anche questo. Madre Nostra, documentario 52 minuti, finanziato dal Social Film Fund, Fondazione con il Sud con Apulia Film Commission, è un documentario che parla di agricoltura sociale e terre confiscate alla mafia qui in Puglia. Un viaggio, non proprio un road movie, ma un viaggio percorso con il mio camper, il Vostok 100K, attraverso quattro realtà pugliesi, da San Michele e Salentino a Cerignola, passando per Loseto e Valenzano, per raccontare il mondo del terzo settore, per raccontare il mondo del sociale, per raccontare i portatori di cambiamento, quelli che si prendono questa croce sulle spalle, siamo in un luogo sacro, è il caso di dirlo, e decidono di cambiarle le cose. Semi di vita, Angelo Santoro a Valenzano, ha preso in gestione 20 ettari confiscati alla mafia. Un peso notevole, perché non è più semplicemente fare agricoltura sociale, fare agricoltura, diventa anche una missione di redenzione per il territorio. E infatti, il Madre Nostra, è questo che ho voluto evidenziare, dico alla fine del documentario, se Padre Nostro è nei cieli, Madre Nostra è la terra, Madre Nostra è l'agricoltura, che può, alla fine di un percorso, donare redenzione a luoghi e persone.